Anche quest'anno Tordibetto torna a celebrare la festa della mamma giunta alla sua 65esima edizione che vede vivo sempre il ricordo di Donotello Migliosi che la ideò. Questo è il programma dell'iniziativa venerdì 6 maggio alle ore 20 e 30, la recita del rosario nella chiesa di San Bernardino e a seguire un incontro riflessione sul tema maternità, accoglienza e difesa della vita a cura di Antonella Monacelli del consultorio per la famiglia di Palazzo. Sabato 7 maggio dopo la recita del rosario con processione al Parco della Mamma alle 20 e 30, alle 21 e 30 la serata danzante con Belli e Ribelli. Dalle 20 sarà attivo un punto ristoro. Domenica 8 maggio alle 10 la celebrazione della Santa Messa al Parco della Mamma dalle 15 e 30 in piazza Donotello Migliosi, intrattenimento per bambini con pesca di beneficenza e punto di ristoro. Alle ore 16 e 30 lo spettacolo per bambini, alle 17 e 30 la premiazione del concorso Fessa della Mamma dedicato agli alunni delle scuole di Assisi e Bastia Umbra. Alle 18 giochi e letture per bambini con intrattenimento folcloristico. Alle 20 e 30 la recita del rosario in chiesa, dalle 21 serata danzante con il maestro Baldo.